Eccolo, ecco lì, uno, proprio sotto di te. Guarda la testa. Con le sue zampette vedi come si azzerra? Proprio adesso si è nascosta. E' fuggito, ma ce ne sono tantissimi, sai? Ora andiamo a catturare per la gregliata di questa sera, anche se è piccolino, con questo al massimo la frittura. Eccolo lì, il proteino, quello lì che prende il sole dalla lampada per farsi l'abbrondatura perché, come è noto, il proteo è depigmentato. Chi arriva? Vieni che c'ho il proteo. Dai. Qui. Non mi fa, no, un gamberetto. Ma è pieno di gamberetti di fiume. Li vedi? Sì, guarda lì. Eccolo lì. La vita all'interno delle crocche. È enorme. Eh, è abbastanza grosso, sì. Si vede bene anche da qua. Sì, è molto grande.